Ci troviamo in una zona meravigliosa della provincia di Caserta, una delle zone che ci invidiano tutti per la sua bellezza, per la suggestività dei suoi scenari. È stata dichiarata, credo, non lo so, io lancio l'appello, credo che sia patrimonio dell'UNESCO e l'umanità ha bisogno di questi scenari per capire la preziosità, la bellezza di questa terra sulla quale noi siamo orgogliosi di abitare. Dottore Sant'Agata, lei condivide che questo territorio è meraviglioso, che questo territorio merita veramente di entrare nel patrimonio UNESCO? Sinceramente no. Guarda che bella bonifica che hanno fatto. Non è servito proprio a niente quella videoconferenza, questi sono proprio degli approssimativi, quelli che amministrano. Guarda qua, guarda, ma dico che santi Dio, un po' di una telecamera qua non si poteva mettere. Ma che sono a poco, qui? Guarda qua, guarda, guarda che ci sta, guarda, guarda che ci sta, guarda, guarda, è una vergogna, una vergogna a livello provinciale proprio, guarda. Grazie.